Perché qui i bersaglieri aprirono una famosa breccia di portafia, entrarono a Roma e da quel giorno Roma diventò la capitale appunto del Regno d'Italia. Ma dobbiamo necessariamente partire dal Palazzo del Curinale perché qui ha sede la Presidenza della Repubblica. Il Palazzo della Consulta, un edificio romano importantissimo che dal 1955 è la sede della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. E partiamo dal palazzo qui alle mie spalle, Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Il nostro tour prosegue dopo aver visto Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica e quindi della seconda carica dello Stato. Andando in ordine ci troviamo adesso di fronte a Palazzo Montecitorio, sede invece della Camera dei Deputati e quindi sostanzialmente il cui Presidente è la terza carica dello Stato. Questo palazzo si chiama così proprio perché si affaccia su piazza di Montecitorio. La storia inizia nel 1653 quando Papa Innocenzo X commissionò addirittura a Gian Lorenzo Bernini la realizzazione di una residenza per la famiglia Ludovisi. Si parla ancora di questa modesta altura di Montecitorio dove è costruito il palazzo perché si ritiene che in epoca romana vi si svolgessero le assemblee elettorali, da cui appunto Montecitorio, altri invece affermano che il nome deriverebbe dal fatto che qui venivano scaricati i materiali di risulta derivanti dalla bonifica del vicino Campo Marzio, quindi Montecitorio. Però è con il risorgimento italiano che questo palazzo assume un ruolo importante quindi con la proclamazione di Roma come capitale del Regno d'Italia perché questo palazzo fu espropriato appunto dal Regno d'Italia e destinato a ospitare la Camera dei Deputati. Fu scelto questo e vengono invece scartati Palazzo Venezia e il Campidoglio. Questo palazzo appunto dal 1870 in poi fu comunque oggetto di tante modifiche necessarie proprio per permettere a questo palazzo di svolgere il ruolo di ospite appunto della assemblea, di una delle assemblee legislative, quindi della Camera dei Deputati. Il palazzo di Montecitorio è anche noto alle cronache politiche perché è qui che ha sede il cosiddetto Salone del Transatlantico. Molto spesso nelle tribune politiche o anche nei servizi che vengono fatti dai telegiornali dalla Camera dei Deputati i giornalisti trasmettono appunto dal Salone del Transatlantico. Perché è famoso questo salone? Questo è un salone che sostanzialmente circonda il perimetro dell'emiciclo appunto del Parlamento, dell'Aula ed è caratterizzato da un pavimento in marmo siciliano e da decorazioni e arredo tipico delle navi dell'inizio Novecento. Ma dopo aver descritto questo palazzo importante cerchiamo di capire in maniera sintetica che cos'è la Camera dei Deputati e perché è importante. La Camera dei Deputati è uno dei due rami del Parlamento insieme appunto al Senato della Repubblica. Fu istituita nel 1861 come Camera dei Deputati del Regno d'Italia ed era in successione, quindi succedeva sostanzialmente la Camera dei Deputati del Regno di Sardegna e Piemonte. E dunque nel periodo monarchico fu affiancata dal Senato del Regno che aveva delle caratteristiche diverse rispetto a quella attuale, resta operativa fino al 1939 quando fu sostituita dalla Camera dei Fasci delle Corporazioni e poi venne ripristinata appunto con la Costituzione Repubblicana. È da tenere in considerazione che originariamente prima lo Statuto Albertino e poi anche la stessa Costituzione Repubblicana prevedevano un numero variabile di deputati in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione. Solo nel 1963 fu definito un numero fisso pari a 630 deputati e successivamente con la legge costituzionale 1 del 2020 la Camera verrà, il numero dei deputati verrà ridotto a 400 a partire proprio dalla prossima legislatura. In questo posto si riunisce il Parlamento in seduta comune per le elezioni del Presidente della Repubblica. Questo perché la Camera dei Deputati ha un'aula grande e capace appunto di contenere più di mille persone. Non ci resta altro quindi che andare a fare un passetto più avanti e andare a vedere invece la sede del Governo. Ci vediamo subito dopo. Il nostro tour prosegue. Abbiamo lasciato il Palazzo del Quirinale, abbiamo proseguito con i palazzi del potere legislativo, quindi con Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama. E adesso andiamo nel Palazzo del Governo, nel Palazzo dell'Esecutivo. Un palazzo noto alle cronache politiche, sede della figura più rilevante per quello che riguarda la vita quotidiana, la vita politica quotidiana del Paese che è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle mie spalle potete vedere Palazzo Chigi. Purtroppo, per ragioni di sicurezza, non possiamo accedere a tutta l'area transennata, quindi faremo questa ripresa da molto lontano, però ci può essere utile questa ripresa panoramica proprio perché avremo modo di vedere alcune caratteristiche di questo palazzo. Palazzo Chigi. Palazzo Chigi oramai è per antonomasia individuato appunto nel palazzo del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è situato a Roma tra Piazza Colonna e Via del Corso. Dal 1961, quindi non dall'inizio né del Regno d'Italia né tanto meno della Repubblica Italiana, ma dal 1961 è la sede del Governo della Repubblica Italiana, nonché la residenza proprio del Presidente del Consiglio dei Ministri. e ha la caratteristica di essere anche adiacente, come potete vedere, al Palazzo di Montecitorio, che è la sede della Camera dei Deputati. Ma questo palazzo ha una storia ultra secolare. inizia nel 1578, quando è la famiglia Aldo Brandini che unisce, ristrutturando le diverse proprietà che si affacciavano su Piazza Colonna e poi su Via del Corso, creando appunto il palazzo. Ma vi starete chiedendo perché è chiamato Palazzo Chigi? Perché il nome viene dato dalla facoltosa famiglia di banchieri di origine senesi, i Chigi, che lo acquistarono con il famoso Agostino Chigi, che all'epoca era il banchiere del Papa, nel 1659. Nella sua storia questo palazzo è stata la residenza di alcune tra le più importanti famiglie nobiliari di Roma. In questo palazzo, il 20 aprile del 1770, addirittura Wolfgang Amadeus Mozart vi tenne un concerto alla presenza di Carlo Edoardo Stewart, fu poi sede di ambasciate, l'ambasciata del Belgio, quella del Regno di Sardegna, quella di Spagna e quella dell'impero austro-ungarico. Solo nel 1916 fu acquistato dallo Stato italiano e divenne prima la sede del Ministero delle Colonie e successivamente quella del Ministero degli Esteri nel 1922. Ed è qui che divenne sede del Ministero degli Esteri nel 1922, quando fu Benito Mussolini che ricoprì quella carica e vi stabilì il suo studio presso la Galleria Detti. Ed è da quel balcone lì, che potete vedere al primo piano, che fa proprio ad angolo tra Piazza Colonna e Via del Corso, che viene chiamata la Prua d'Italia, in cui Benito Mussolini pronunciò i suoi primi discorsi alle folle prima poi di replicarli da quello di Piazza Venezia, che ovviamente rievoca nell'immaginario collettivo. E come dicevo appunto, solo nel 1961 è divenuta la sede del governo. E' singolare che questo palazzo abbia una storia che condivide proprio con un altro palazzo che abbiamo visto prima, cioè il Palazzo della Consulta, perché sia questo palazzo che il Palazzo della Consulta sono stati allo stesso tempo, in periodi diversi ovviamente, sede del Ministero degli Esteri e sede del Ministero della Colonie. Ma chi abita qui? Chi c'è in questo palazzo? Questa è la sede del governo della Repubblica Italiana. Il governo della Repubblica Italiana è un organo politico composto, composito, perché è composto appunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha qui la sua base, la sua residenza sostanzialmente, e quindi qui sono poi tutti gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dai ministri, che ovviamente formano l'organo costituzionale del Consiglio dei Ministri, che è sostanzialmente il detentore del potere esecutivo. Chi c'è qui? Chi è l'inquilino di questo palazzo oggi? È il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che è in carica appunto dal 13 febbraio del 2021. Questo organo è un organo che si pone appunto al vertice del cosiddetto potere esecutivo, ma appunto il Consiglio dei Ministri è un organo che, proprio in quanto previsto dalla Costituzione, ha anche dei poteri di tipo normativo, perché sappiamo che può emettere decreti legge, oppure provvedere alla decretazione, ai decreti legislativi. E' presieduto appunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che è, diciamo, ecco perché stiamo anche seguendo quest'ordine, il quarto nell'ordine di precedenza tra le cariche italiane, dopo il Presidente della Repubblica e i Presidenti dei rami del Parlamento, e in un ordine superiore rispetto al Presidente della Corte Costituzionale, ed è appunto la figura politica, diciamo, di maggiore rilevanza, soprattutto proprio perché è a capo del governo e quindi del potere esecutivo. E' da notare, appunto, che c'è un rapporto molto stretto tra Palazzo Chigi, i ministeri che compongono l'esecutivo, e poi tra Palazzo Chigi e i palazzi che abbiamo visto in precedenza, quindi il Quirinale e i palazzi, appunto, delle Camere Legislative. Non è un caso che nel 1961 fu scelto proprio Palazzo Chigi come sede del governo, proprio perché costituiva un luogo di facile trasporto, comunque di facile comunicazione, e proprio con uno, in particolare, con uno dei rami del Parlamento, che è quello della Camera dei Deputati, che abbiamo visto in precedenza. Adesso non ci rimane altro che andare a vedere, appunto, un altro palazzo importante. Ci vediamo subito dopo.